amici e amiche di peppe hightech bentornati sul canale quest'oggi nuovamente con star wars jd fallen order allora eravamo rimasti al punto che il nostro caro cal doveva tornare alla sua astronave cosa ovviamente non semplice altrimenti il gioco sarebbe finito ora cerchiamo la strada per tornare e vediamo un pochettino cosa ci aspetta per tornare alla nostra casetta volante allora bene andiamo 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 allora allora vediamo innanzitutto sulla mappa se mi conviene che cosa no me ne vado di qua e risolviamo il problema qui non c'è niente perché dobbiamo entrare dentro per interagire a e salita in automatico va bene stiamo salendo stiamo salendo andiamo su 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 non succede nulla qua vediamo guardiamoci attorno niente 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 senso scusatemi ma avevo distolto un attimo lo sguardo perché mi era sembrato di non aver tolto la suoneria il telefono ma ho messaggio appena arrivato mi ha confermato che ho inserito la niente non abbiamo tolto la suoneria bene ah non arriviamo più leρη ultime parole famose bene vediamo dove siamo ok il nostro obiettivo quindi è di andare di qua molto 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 lontano ancora eh si andiamo di qua oh scusami ma 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 questo posto familiare sbaglio oh sono tornato se ho sbagliato ve la taglio non ve la faccio vedere oh la 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 oh la 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 oh la 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 vai a spara no davvero davvero ah 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 oi ah perché quello col missilotto oi senti ancora ok dove sei dove sei tu con quel lanciarazzi maledetta ah no ma ci sono due mi serve un minuto dove è l'altro sono l'unico che vuole combattere dove sei ma guarda dove è l'altro ecco vieni ecco vieni 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 e ti si sta a noi vieni vieni qua bravo allora ora quindi possiamo andare bene qui e bg1 o magari prendere qualcosa ci posso vedere ancora modificare la spada laser nuova materiale spada laser o smiridio ok perfetto qui 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 non vedo qui non vedo però lì dove è la porta ah eccola aspetta quello che non ho ancora visto mamma mia ecco non ti sei aggrappato bene caldo ok via aia non vale sono un genio attenti si spezza veloce del collo ora ipoteticamente io con quest'area che esce da qui con un mega salto non arriva da nessuna parte ah devo andare lì 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 giusto 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 sbagliato sbagliato vediamo un poco dobbiamo devo andare ok qua così qua così bene qui così ok qui così e padabumba ah 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 poi vieni qua strano ok e qui dove sono finito fatemi dare un'occhiata in giro allora ok è impossibile che non ci sia niente ah no infatti c'è l'aria ok quindi io salto qua ah aspetta aspetta piano piano monumento rovinato ok stiamo tornando indietro sì perfetto perfetto sento delle voci delle guardie dove sono ah eccole lì bene allora le posso sorprendere ah ce ne aspetta uno per dirà oh no ah maleditto tu però mi hai rotto pescato eh maleditto topo gigante mostro quello che sei oh vediamo un po' qua che c'è scansione eh che dopo fa che mi dici e che mi dici soldato lancerazzo ma va ma va ma abit uno veramente un soldato lancerazzo io pensavo che fosse un venditore di caramelle ambulanti ma che ignorante che sono dai salviamo un attimo la partita nel frattempo così recupero anche un po' di forze va bene ha recuperato le forze quindi ora dobbiamo uccidere le guardie che sono dove sono le guardie non le sono perse dove stanno ah eccolo qua ecco quando uno si dice che parla troppo allora vediamo se prendendo una bella rincorsetta no oi dai dai Stata indietro, ci penso io. C'è un marco! Tattatore a terra! Ho perso il bersaglio. Ah! Muori! Oh, sensi. Oh, bene. Io direi... Ok, andiamo qua. Oh, e che cos'è qua? Andiamo giù, andiamo giù, vediamo. Vai qua c'è qualcosa. Ah! Bene. Ah, dove si è il biduno? Non c'è niente per modificare la spada qua, no? Ok, quindi... Che devo fare? Ah, sì, scusa. Non me ne ero accorto. Arrampichiamoci. Oh, sì! Bene! Possiamo potenziare la spada. Sbizzarriamoci un pochettino. Ah, no. Potenzialmente per biduno. Ti dà una sistemata. Perfetto, potenzialmente per biduno, per la mia spada laser, per la mia spada laser. Voglio anche quello, c'ho tante componenti. Ok. Oh, bene. E ora che fai? Salte più in alto, è più veloce, uccidi nemici anche tu. Vuoi fare una prova? Ecco. Dai. Ma scusa, e io voglio potenziare anche io la mia spada. Personalizza spada laser. Sì. Beh, modificato anche la mia spada. Bene. Ora è diventata verde. Ok, dobbiamo provare i potenziamenti di BD1. Sei sei, BD1? Da dove è andato? BD1. Ok, vediamo. Oh! BD1. Con la zampetta nuova ti fa fare queste cose. Ti fa aprire un ponte. Prendi questo. Ah! Sembra più potente. Oh no. Dove sei? Ah! Morto pure tu! Vai, un'altra che curla a Jedi, no? Va vai, BD1. Ah, tocca a te. Vai con la zampetta, vai. Grande zampa. Zampa lessa ti devo chiamare ora. Ah! Salto. Va bene. Bene. Grande. Non mi pare... Ah no, sì, 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 sì. Ah, di qua, di qua. Ok. Perfetto. Ok, yeah. Mamma mia. Ok. Come fa un casino quel macchinario? Vai, vai, BD1. Quella zampetta ho fatto bene a dartela. BD1. Ah, eh. Che sia chiaro, eh. Non mi far cadere come nelle scorse puntate. Eh. Vabbè. Ok. Lì. Ah. Menomale. Grazie, BD1. Grazie questa volta. Grazie. Ok. Ora, per non sbagliare, per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Se andiamo di qua, secondo me, cosa potrebbe fare? Eh, perché mettere i bivi? Il bivio io l'odio. I bivi, i bivi. Oh. Questo muore. Non cadere giù, perché mi ti tocca fare il giro. Ok. Allora, abbiamo scoperto che dove andai di qua, perché lì è dove già siamo stati. Quindi andiamo qua. Ah, eccoti qua. Eh. Vieni, vieni. Supererò le tue difese. Eh. Ciao. Ho timore che stia, però. Non stia andando nella parte giusta. Mamma mia. Come ci arrivo là? Aspettate, aspettate, aspettate. Là. Spero di andare bene, perché queste mi sembrano tutte cose che ho già fatto. Allora. 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 Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo che... Oh, che è qua? Che cos'è? Vieni qua, vieni. Ok. Vai B21, dai. Ok. B21, hai trovato qualcosa? Nuova il sapere spada laser ottenuta. Natura elementale. Ok. Allora. Allora. Oh. Beh, di qua è sicuro... No. Di qua c'è qualcosa. E qui dove sono? Questa porta non si muove. No. Ora la possiamo aprire. La pausa è finita. Eh. D'accordo? Si è mosso. Colpiteli. Vai così. Ho finito con questo. Vai così. Oh. Eh. Non vuoi un scemo con la... Con la spada che poi dopo... Eh. Si muove. Ah, meno male. Veramente meno male. Allora, qui... Non c'è niente che ci interessa. Poi qui sembra che ci sia un macchinario. Stai cavando? Al momento il montacariche non può essere chiamato da questo lato. Va bene. Quindi abbiamo andato a questa parte. Prima non ci siamo andati. Quindi penso che... E siamo sulla strada giusta, signori. Siamo... Siamo... Siamo sulla... Sulla strada... Questa è una porta chiusa. Siamo sulla strada giusta. Sì. Perché qua c'è qualcosa per appenderci. Andiamo per di qua. Saltiamo su. Bene. Sai qualche barzelletta, BD? Eh, dai. Non è barzelletta. No. Ah, come è divertente. Perché? Eh. Simpatica. Eh, grazie. Mamma mia. Che senso dell'umorismo, BD1. Allora, qualcosa mi dice che, come al solito, badando la mia sicurezza, io debba correre per queste pareti. Vai. Saltiamo così. Saltiamo così. Salta e grappati. Bene. Saliamo qui. E ci spostiamo lateralmente. Questa è una strada che non mi ricordo di aver già percorso. ipoteticamente, e dico ipoteticamente, dovrei essere nella direzione corretta. Si spera. Va bene. Ok. Oh, direi proprio di sì. Ok. Tu sei il mio amico? No. No, 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 no. Non sei il mio amico. Ah. Ah, è morto, è morto. Bah, 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 bah. Scala, è morto. Ah, mamma mia. Io tazzo. Oi. Ricevuto, forte e chiaro. Indietreggio. C'è di colpito. Eh. Fuoco a volta. Ah, è così, vai. Faglielo vedere che è più forte. Vai. Non può essere così veloce. No. Ti dici? Ah. Ah. Ah, ah, ah. Sì che sono veloce. Più della luce, però mi avete colpito. Devo ammetterlo se siete stati bravi. O io che sono poco bravo, dipende dai punti di vista. Bene. Allora. Lì ci sono delle scale. E lì c'è un campo di forza che... Che? Proviamo? No, non mi fa proprio passare. Pensavo mi fulminasse. Non mi ha fulminato bene. Allora, deduco che essendoci qui delle scalette che mi aspettano che io possa andare per di qua. Aspetta, fermo, fermo, fermo. Vediamo un po' sulla mappa dove sono. Oh, forse sono... Sì, sono più vicino. No, non mi interessa un momento qua. Oh, beh. Ah, no. Ah. Ah, ah, ah. Ok, di qua bene. Beh, non so perché questo piccolo indizio di colore blu sta dando. L'emico, è qui. Ci penso io. Oh, no. Oh, no, no. Eh, bravo. Ok, guardiamoci bene attorno. Questo non ci interessa. Questo non ci interessa. Penso che sia proprio qui. Vai con la tua zampetta nuova. Vai, BD1. Grande zampa. Oh, la sorella. Per il sore... Ho timore di sì. Beh, ricarichiamoci, va per sicurezza. Ecco qua. Ah, no. No. Oh, però è veloce. Ciao. Non è tanto veloce. E me? E ora? Sono dei cacciatori di Jedi. Arriveranno gli inquisitori? Possibile, ma siamo lontani da Bracca. Forse si eviteranno i soldati e puratori. Oppure preferiscono aspettarti al barco. Attento. Ok. No, ce ne sono qua. C'era... Forse devo farci il giro tondo, vediamo. Ok, di qua. No. Mi sono saltato quello? Beh, a niente. Oh, bene. Un punto di salvataggio, signori. Forse è un punto di salvataggio. Sì. Ok. Meditiamo. Salviamo. Nuovo punto abilità acquisito. Ma... Proviamo a vedere se posso prendere qualcosa. Due punti abilità. Un punto, due punti. Due punti. Un punto abilità. La forza massima di Kull aumenta. Aumentiamo la forza massima di Kull. Ok. Forza massima di Kull aumentata. Ora, vediamo se mi manca molto ad arrivare. Ad arrivare... Il mio obiettivo. Va, penso che ci manchi poco. Allora, tiriamo un altro pochettino avanti. Ragazzi, forse quest'oggi il video viene leggermente più lungo. Lugo dello schianto. Ok. Prima di buttarci. Fammi capire. Eh... Beh. Io ci provo. Ah. Allora, vediamo innanzitutto... Ah, non mi dice. Vabbè, andiamo di qua. Non posso utilizzare la mappa ora. Allora, uccidiamo di un altro mostro di questo. Prendiamolo alle spalle, magari. Ah. Ah. Oh, muori. Oh. Ah. Ok. Bene. Allora, ora può darsi la mappa. Me la faccio vedere. Qui c'è un posto in esplorato. Ci sono diversi posti in esplorati. Qua. Di qua. Di qua. E c'è forse qualcosa qua? Che mi è sfuggito prima? Vediamo. Sì. Vediamo. Oh. Vediamo. Che cos'è qua? Un richiamo della forza. Vediamo un poco. Gli abitanti hanno dedicato questo memoriale ai cloni sul Venator. Ok. L'impero non è la nostra unica preoccupazione. Bene. Abbiamo trovato un altro passaggio. Vediamo un po' qui cosa c'è. Ah. Ecco qua. Ecco la cosa qui. C'è qualcosa. Proviamo a sentire. Questo tunnel si è allagato. Cosa sarà successo? Ah. Chissà. Vabbè. Ok. Andiamo per di qua e vediamo un po'. Oh. Moriamo affogati. Dai. È la volta buona. Che cal si fa le pinne. No. Che succede? Che era quel rumore? Qui c'è odore di olio vecchio. Ah sì? Oh. Vai. Dai. Dai. Forza. Dai. Dai. Oh. Oh. Ok. Bene. Bene. Voglio capire però dove siamo arrivati nella mappa. Aspetta. Aspetta. Facciamo uno zoom indietro. Bene. Non siamo molto lontani dall'assonave signori. Eee. Ragazzi. Direi che non c'è stato niente di eclatante. Anzi no. Sai che cosa c'è di nuovo? Sai cosa c'è di nuovo? Allora io sono qua. Devo andare al piano di sopra. Devo accedere. Devo andare un altro pochettino avanti. Dai. Voglio vedere di qua che cosa c'è. Caverne di ghiaccio. Vieni. Vieni. Andiamo. 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 Vieni. Andiamo. Non blocchiamo ancora. Può darsi che sono più vicino all'arrivo di quanto mi... Può di quanto possa immaginare. Ok. Così. È finito giù? Eh. Direi proprio di sì. Bene. No no ragazzi. Continuiamo un altro pochettino. C'è un altro ascensore qua. Potremmo essere che ci porta su all'assonave. Bene. Vediamo. Ok. Sì. Sì. Siamo arrivati ragazzi mi sa. No. 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 Sto arrivando. Non mi sposti. Cal. Cosa dici? Dai. Cosa dici? Eh. Eh. Vai. Forza. Forza. Veloce. Veloce. Dai Cal. Forza. Eh. Ho fatto così tanto. Non interrompo la puntata per arrivare all'astronave. Ti consigli di andare via. Che mi fai Cal? Che mi combini? Eh. Vabbè. C'è tutto sto futuro. Non c'è. Non c'è. L'ascensore è più veloce. No. Eh. Vabbè. Dai. Ok. Oh. Eh. Diamo un altro colpo di salvataggio. Anzi. Non si può mai sapere. Vai. Non si può mai sapere. Ok. Salvato. Salvato. Andiamo di qua. Dai. Forza. Forza. BD1. Dai. Che sennò ci fregano l'astronave. Ok. Dai. Dai. Zona sconosciuta. Eccola là. Dai. Muori. Eh. No. Eh. Eh. Oh. Eccola là l'astronave. Dai. Forza. 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 Che così salviamo la partita. Salviamo la partita. Che oggi il video è durato un pochettino di più. Calo. Un camminatore si attacca e abbiamo le armi fuori uso. E dove? Degli di portare qui le sue. Resistete. Sto arrivando. Oh. Aia. Ah. Io non la posso colpire. Ah no. Sì che la posso colpire. Oh. Una granata. No. Cal. 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 Oh. Allora. Oh. Allora. Spostiamoci un po'. Spara. Spara. Dai. Forza. Oh. Sconfitto. Bene. Dai. Tu vieni qua. Mori. Sei dell'impero. Sei cattivo. Via. Eccomi. Sto arrivando ragazzi. Ragazzi eccomi. Eccomi ragazzi. Aprite la porta. Ah eccola là. Aprite la porta. Sto arrivando. Ecco. Eccomi. Bene. Oh. Così possiamo salvare la partita. Sentiamo cosa hanno da dirci. Dai. Dimi solo che questa visita non è stata inutile. No. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Eh. Meno male. Usavano la forza. Di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordova ne era così ossessionato. Ah sì. Hai scoperto altro? Sì. 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 Va bene. Ok. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Grazie. A battere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Ah. Sì. Sì. Allora. Ho preso anche i nuovi poteri. Te la cavi? Sì. Intendi con la forza? Sì. Con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì. Certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Beh. Veramente. Va. Voglio saperlo anch'io. Perché? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. Eh beh. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione così. Sì, ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì. Sì. Ci fu una rivolta in prigione. Non mi hai parlato? Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Ok. C'è un però. Io non sono più la stessa. Ah, per vedere la tortura. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. Va bene. Ci può stare. Lei è sopravvissuta. Eh, insomma. Dica tanto. No. Ebbè, fa parte della forza ormai. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Ok. Lotteremo. E vinceremo. In realtà no, però lotteremo. Ok. 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 Bene signori. Per oggi. Basta così che il video è durato pure di più di quanto mi aspettassi. Allora. Se vi è piaciuto come al solito vi dico di lasciare mi piace. Cliccate se mi piace. Commentatelo se volete. Se avete suggerimenti. Avete qualcosa da dire. Io leggo i commenti e cerco di rispondervi il più velocemente possibile. Mi raccomando di condividere il canale sulla bacheca dei vostri social. Vi ricordo che ho anche il canale Facebook. Anche lì posto dei video, foto e altre cose. Quindi andate a vedere anche quello interessante. Mi raccomando. Come al solito ditelo a parenti amici e conoscenti. E fateli iscrivere su entrambi i canali. Noi ci vediamo con il prossimo video. E grazie ancora per aver seguito questo fino alla fine. Ciao e alla prossima. Ciao.